la storia di uno scrittore in cerca di successo felicemente sposato e padre di una bellissima bambina di nove anni ad un certo punto finalmente riesce a coronare il suo sogno e a pubblicare il suo primo libro ma le cose precipitano nel momento in cui viene invitato a firenze per la presentazione del suo romanzo eccolo qui il tuo libro fresco di stampa stai forse dicendo che il mio profumo non è buono carlo si innamora di giovanna l'editrice fino al punto di chiedere il divorzio a sua moglie appena rientra a casa preferire che ti facevo l'icona alle spalle riuscirà a combattere la sua difficile guerra di sentimenti cosa sto facendo quella giovanna mi intriga terribilmente a novembre al cinema grazie a tutti